Pilota per un giorno, questo è lo slogan che si legge sulla Locandina che l'Associazione Sportiva di Voli Ultraleggeri sta effettuando qui nel campo di Monasteraci. Buongiorno a voi, grazie per la presenza, con quei gentilissimi amici, di vecchia data anche. Arrivato qui per caso, durante un volo di transito, a caso del maltempo, ho deciso di atterrare qua, in una zona mica. Conocevo il posto in quanto una decina d'anni fa, esattamente nel 2006, abbiamo fatto un bel raduno di veicoli ultraleggeri. Questa è una zona che porto nel cuore, anche perché è della zona, come ben sapete. Quindi qui poi, con la pressione di alcuni amici, ho deciso di restare a passare un po' di giorni di ferie. Niente, la nostra associazione, la 38esimo Nord Flazzone, è un'associazione sportiva che pratica il volo da diporto sportivo, un volo ultraleggero. Voliamo un po' con tutti i mezzi di categoria che permettono anche di favorire la diffusione della cultura aeronautica, e permettendo di far volare curiosi e appassionati. In questo caso, molti turisti e anche tanta gente del luogo, che per la prima volta ha potuto apprezzare il proprio territorio dell'alto. È un veicolo particolare, si sente sorvolare sulla vallata in questo mese? Come si chiama e quando è nato? È un veicolo di antica concezione. Il suo ideatore è stato un pilota ingegnere spagnolo agli inizi del Novecento, credo qualche anno prima, è stato nel 1903 qualcosa. È un veicolo stupendo, per la sua sicuramente caratteristica. Infatti il rotore principale, a differenza di quello dell'elicottero, gira solamente con la forza del vento, non è trazionato dal motore. Il motore serve soltanto a spingere il veicolo. Quindi in caso di emergenza non vi è pericolo che il rotore si possa fermare. Quindi anche in fase di scesa, per il vento relativo che incontra, in fase di scesa il rotore continua a sostenere il mezzo e lo poggia a terra, tranquillamente, sempre dietro un attimino la guida del pilota. Quindi è un mezzo di antichissima concezione, veniva addirittura usato durante la guerra, la seconda guerra mondiale, privo del motore, logicamente, a bordo dei sommergibili come avvistamento fuori della quota periscopica. Quindi degli esemplari molto leggeri, sicuramente molto più leggeri di quei si esistenti, venivano trainati dal sommergibile, dalla sua pancia, si alzavano due o trecento metri e l'avvistatore poteva così avvistare navi, demiche, eccetera, mediante questo mezzo. Quindi un veicolo di indubbia tradizione storica. Sul piano di coda si legge un nome, un certo Vincent Raschellà. Chi è? Vincent, Vincent è il nome americano dopo, Vincenzo, era Vincenzo Raschellà. È stato un pioniere del volo italiano, locale, proprio della provincia di Reggio Calabria. nato nel 1863 proprio a Caolonia. È una mente, è un uomo brillante, è un uomo di cultura, di cui noi tutti sconoscevamo l'esistenza fino a qualche anno fa, quando un mio amico di Caolonia, casualmente entrando in dati di archivio per ritracciare dei parenti, andato in America, notava questo nome, Vincenzo Raschellà, tra i tanti, che aveva addirittura la conoscenza di ben tre lingue. Lui è sembrato strano, spiccava questo Vincenzo Raschellà, conoscenza di tre lingue e con qualche soldino anche dietro. Da qui, da lui incuriosito, parte una serie di ricerche in archivi, finché un giorno, una notte, perché gli usciva sempre questo nome, Raschellà ha messo il nome e ha detto, ma siamo andati in America, non è più Vincenzo, Vincent. Mettendo Vincent nel motore di ricerca è uscito un bene in Dio. Vincent Raschellà, Vincenzo Raschellà è un pioniere del volo, è stato scoperto appunto da tutti i documenti che sono conservati adesso al Museo delle Scienze americano. Purtroppo non è stato profeta in patria, sicuramente anche per gli anni. Basta pensare che già, ancora prima, dei fratelli Wright, che hanno effettuato il primo volo in America, lui una decina d'anni prima, da un'attestazione resa pubblica dal sindaco allora, già per iscritto, veniva attestato che sulle colline di Caolonia ha effettuato il primo volo con un mezzo che lui stesso ha battezzato il Falco. Ed era il 1893, se non erro. Quindi un pioniere, un pioniere italiano, un pioniere della nostra terra. Quindi abbiamo voluto dedicare, battezzando questo mezzo particolare, con il nome che lui ha appunto inteso chiamare il suo primo volo, il Falco. Grazie pure! Grazie a tutti! Grazie per la vita!